In provincia di Salerno torna a salire il numero dei contagi giornalieri nella città capoluogo. Dopo alcuni giorni, con numeri più contenuti, Salerno ha fatto registrare 48 tamponi positivi. Nell'agro nocerino sarnese, invece, nocere inferiore riporta ancora un incremento con 23 nuovi positivi. Il sindaco Maglio Torquato, nel ricordare Alfonso Izzo, il giovane deceduto per complicanze dovute al Covid, ha invitato le persone a essere prudenti. Ci sono 100.000 ragioni per le quali bisogna rispettare gli altri in tempi di Covid, ha detto il sindaco. Anziani, genitori, fratelli, nonni, amici allettati, malati, ospedali, bar, ristoratori, medici e infermieri e ancora studenti, noi stessi. La difesa di ognuno di questi è una buona ragione per non scherzare col virus, per usare tutta la prudenza possibile, per non fare gli splendidi e i disinvolti davanti al pub o per strada. Distanza e mascherina, cioè prudenza. Adesso che qui si sta risalendo la curva dei contagi, proprio ora che si prova a riaprire un po' ed è giusto, facciamo il nostro dovere, senza tensioni o drammi. In fondo una mascherina è un metro e mezzo di distanza, cosa vogliamo che siano, ha concluso il sindaco Torquato. Anche a Pagani si registra un numero di casi Covid-19 con 18 positivi, poi 8 casi a San Valentino Torio, 6 a Sarno, 5 a Scafati e Siano, 4 a San Marsano su Sarno e Bracigliano, 3 ad Angria e Casal San Giorgio, 2 a Nocera Superiore, 1 a Rocca Piemonte. Nessun contagio a Sant'Egidio del Monte Albino, Corbare e Tramonti. A Cava dei Tirreni sono 12 i nuovi tamponi positivi. In Campania si registrano 1.844 positivi. Nelle ultime 24 ore sono 497 le persone affette dal virus che ne hanno mostrato i sintomi. I tamponi processati sono stati 23.004. La percentuale della positività dei tamponi è all'8%. Ieri la percentuale era al 9,2%. Sono 1.689 le guarigioni nelle ultime ore, 31 i decessi. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 136, su una disponibilità di 656, mentre i posti occupati nei reparti di degenza sono 1.507. di un attenzione del contatto. Il contatto dell'antico è assinante. Si dovessere attenzione quella dell'antico. Sperate.